Presidente, buonasera. Alba, benvenuto. Per parlare dell'Italia che il Presidente Vendola racconta in un suo libro che uscirà domani, infatti l'abbiamo invitato, il libro edito da Fandango Libri, si intitola C'è un Italia migliore di Niki Vendola e come dicevo appunto da domani sarà nelle librerie. Vorrei un indugio un attimo sul titolo perché quando l'ho visto ci ho pensato, per molti, molti si arrabbieranno, diranno quelli che non si riconoscono nella sua Italia diranno ecco lo snobismo di sinistra, noi siamo l'Italia perché questa è migliore e quelli che si riconoscono in lei diranno eh sì speranza ma invece le cose non stanno così. No, dico un titolo che può scontentare tutti o accontentare tutti. Io penso che dobbiamo avere il coraggio di dire che sia minoranza, che ci sono cose che sono diventate ordinarie e che disturbano chi ha ricevuto una certa educazione democratica. Che abituarsi a convivere con piccole sommesse barbarie non è un buon atteggiamento mentale, che la suefazione alla violazione della dignità altrui non è mai concepibile, almeno dal mio punto di vista. Allora c'è un'Italia peggiore che è emersa, che si è strutturata nella cultura dominante, nell'immaginario, nella politica e io penso che quest'Italia peggiore che ha avuto grandi ammiraglie nel mondo dei mass media, della comunicazione, che ha avuto il tempo ventennale di plasmare i comportamenti e la mentalità, ha creato un danno irreparabile. Ha portato questo paese a perdere il senso della decenza, a perdere il proprio racconto civile, il proprio etos pubblico. Però, come accade per i fiumi carsici, talvolta non li vedi, ci sono sentimenti profondi, il senso dell'accoglienza, della solidarietà, ciò che ti fa essere una patria, non perché ci sono le coccarde o gli inni nazionali, ma perché c'è una comunità di sentimenti, di condivisione. Ci sono dei momenti in cui è importante dire che sotto questa terra che vediamo quotidianamente c'è un'Italia migliore. Io lo devo dire, anche se fosse un grido di sconfitta, ma è importante dire che c'è un'Italia migliore, sotto la coltre dell'Italia peggiore che ci governa. Presidente, poi, mi permetta, non l'ho scritto io questo libro. Sì, l'ho scritto La fabbrica di Nichi. Questo libro è un lavoro collettivo dei ragazzi e delle ragazze. Collettivo della cosiddetta fabbrica di Nichi. Sì. No, tra l'altro ha parlato di sconfitta, ma in assoluto, no? E secondo lei è preferibile vincere male o perdere bene? No, è meglio perdere bene, perché vincere male significa contribuire a distruggere l'idea della politica come alternative di società, come contesa, come gara positiva delle idee. Invece, se è importante vincere per vincere, perché bisogna occupare una poltrona o uno sgabbello, per me vincere è importante quando la mia vittoria è condivisa da una platea di persone che non hanno, come posso dire, rilievo sulla scena pubblica. Chi pensa di essere condannato a perdere nella vita? Pensate, o si pensi a questa generazione di ragazzi condannati alla precarietà come a una specie di ergastolo, o si pensi a chi vive nel mondo della fragilità, a chi è inciampato, a chi si è perso. Insomma, per loro, per molti di questi, la politica non ha un significato perché non cambia il corso della loro vita. Allora io dico che la politica è seria quando cambia il corso della vita, quando bussa alla porta di chi non se lo aspetta e quindi consente di dire anche a una persona che sta in un margine buio, senza speranze, senza ossigeno, io posso vincere. Però Presidente, per fare quello che lei dice, lei ha scritto un libro e ce ne sono molti che la riguardano in questo periodo, ci vuole un tempo lungo. Metta invece che si voti in primavera come alcuni sostengono, ieri Frattini ha detto, il ministro Frattini ha detto di no qui, quindi magari no, non lo so, ma a quel punto invece bisogna fare presto. Io penso che noi dobbiamo saper calibrare la nostra azione politica. C'è la necessità di essere sulla scena quotidiana, di fare la battuta giusta, ma c'è soprattutto la necessità di fare la semina. C'è bisogno di investire sulla cultura diffusa. Questo è un paese, l'Italia, in cui 15 anni fa un signore e una generazione di uomini nuovi della politica hanno promesso la società delle tre I, inglese, informatica, impresa. Dopo un quindicennio noi ci troviamo con l'Italia delle tre P, precarietà, povertà e paura. Siamo governati dal paradigma della paura. Allora, io penso che noi abbiamo la necessità di fare anche un investimento più di lungo periodo. Certo, dobbiamo combattere per vincere domani, se ci fossero le elezioni anticipate. Devo dire che talvolta il centrosinistra fa di tutto per impegnarsi a perderle le eventuali elezioni anticipate. Dovrebbe avere più coraggio. Per esempio cosa fa? Per esempio non si fida della propria gente, per esempio non mette in campo un'alternativa di società, per esempio non fa un discorso generale. La Gelmini e Marchionne, per fare due nomi, sono due facce della stessa medaglia. La società della precarizzazione della vita, del sapere e del lavoro. Io credo che il centrosinistra non può pensare di vincere semplicemente perché è anti-berlusconiano con le battute. Deve mettere in campo un'altra idea di società in cui il lavoro, il sapere e la libertà hanno un intreccio stretto. Guardi, se posso dirlo, che cosa differenzia noi da Berlusconi sul tema della libertà? Per Berlusconi la libertà è l'infinita propensione a diventare acquirenti di merci. È una libertà commerciale ed è una libertà senza contesto storico. Per noi la libertà è stata libertà dalla paura, libertà dalla miseria, libertà dall'ignoranza, libertà dalla superstizione. Abbiamo bisogno di riprenderci la parola libertà e di restituirle il corpo, la carne e il sangue che il berlusconismo le ha tolto. Lei scrive nel suo libro che siamo in un'epoca post-democratica. Cosa vuol dire? Posso fare una domanda. Il New York Times, non un bollettino dell'estrema sinistra, ha raccontato che i nove più grandi banchieri del mondo si riuniscono ciclicamente e decidono quali sono le grandi ondate speculative che devono imprimere al mappamondo. Decidono qual è l'economia nazionale su cui investire con i loro artigli. Questi nove signori non sono eletti da nessun'assemblea popolare. Non ci sono le primarie. Non ci sono né le primarie né le secondarie e non rispondono a nessuno delle loro azioni. Ma l'economia mondo può essere quella che per salvare le banche di questi signori porta intere nazioni ad affamare le loro popolazioni. Si può chiedere, questa è la domanda, che sia un operaio a 1200 euro al mese a mettersi sulle proprie spalle il carico di una crisi economica che è stata prodotta da questi squali e che poi produce anche da parte dei governi la richiesta di più sacrifici perché bisogna salvare gli squali. No, io non sono d'accordo.